Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera torniamo, come abbiamo già fatto in altre puntate, a parlare di Prato, perché è una città, uno dei tre capoluoghi della Toscana, dove incombono le elezioni amministrative. Si voterà il 26 maggio, insomma, gli schieramenti si stanno ovviamente dando battaglia. Noi questa sera ne riproponiamo un pezzettino, diciamo così, quello che è la contesa, se non altro, tra due anime che fanno parte di più ampi schieramenti del centro-sinistra e del centro-destra. Partiamo dal centro-destra, di cui abbiamo come rappresentante Claudio Belgiorno, che è candidato al Consiglio Comunale per Fratelli d'Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E buonasera a Jonathan Targetti, coordinatore di Più Europa a Prato. Buonasera a tutti, grazie Alessio. E anche lui candidato al Consiglio Comunale, ovviamente. Allora, come dicevamo, insomma, i temi che riguardano Prato sono diversi. Uno su tutti è il tema della sicurezza, insomma, che tra l'altro è anche molto sentito dalla destra, però permettetemi, prima lo facciamo sempre, di aprire una breve parentesi, insomma, su quello che è un po' il tema del giorno, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello, ovviamente, internazionale. Un incendio nel cuore pulsante dell'Europa, così è stato dichiarato, insomma, da molti, volevo partire su questo da Targetti, proprio perché, insomma, quello viene considerato un simbolo dell'Europa. Qualcuno, forse, anche esagerando, ha titolato che si è sgretolato, si sgretola qualcosa che sta alla base anche del fondamento dell'idea d'Europa, però non c'è dubbio, diciamo, che sia stato qualcosa di eclatante, no? Non c'è dubbio, io credo che con la gravità della situazione, perché è un luogo bellissimo a Parigi, che è stato, sicuramente se lo ricordo e se lo porto dentro nel cuore, ho letto veramente dei commenti fuori luogo, ho letto attacco all'Europa, come se ci fosse dietro terrorismo islamico, ho letto stamattina un post dell'onorevole Giorgio Silli, che tirava in ballo la religione, temi che non hanno assolutamente niente a che vedere con quanto è successo, che è una tragedia, una tragedia che riguarda tutti, una tragedia dove poi si dovrà capire, però sembra che veramente sia, si tratti di un incendio, di un incidente dovuto a un cantiere, dovuto a dei lavori che stavano facendo, quindi dispiace tantissimo, però non ci metterei sempre per forza la politica di mezzo, sempre la religione a tutti i costi, laddove questa non c'è. Belgiorno su questo, è giusto anche come dire il moto d'affetto, insomma e poi universalmente più o meno, a parte insomma qualche caso si è stato espresso? Certo, sicuramente voglio dire che siamo tutti dispiaciuti e siamo vicini alla Francia in questo momento difficile, a differenza dei francesi che quando sono successe delle disgrazie qui in Italia, ci hanno deriso, hanno fatto anche delle vignettine poco gradevoli, quindi devo dire invece, ho letto tante bacheche di Facebook, tanti post dove la gente è veramente dispiaciuta e addolorata per questa disgrazia, quindi siamo vicini a Francesi. Però scusate, non è a differenza dei francesi, il fatto che Charlie Hebdo abbia fatto delle vignette, uno dice, a differenza, non è i francesi, non è Charlie Hebdo, non la rappresenta. Tra l'altro l'ha fatta anche stamani, sono anche su Notre Dame, comunque è uscita la vignetta anche su Notre Dame. Sì, capito, però non è che i francesi, cioè... Però la satira magari su certe disgrazie sarebbe bello. La satira è satira, assolutamente la satira. Va bene, noi riapriamo con il tema perché effettivamente fu un tema molto discusso ed è anche giusto discuterci su se ci sono o meno dei confini della satira, ma non è il tema di oggi, diciamo così. Noi invece oggi parliamo di Prato, ne parliamo sotto diversi aspetti. Vorrei partire dal tema di Rimente con Belgiorni, almeno di Rimente per voi, che è il tema della sicurezza. Anche perché è una delle aree di interesse a cui i cittadini stanno più attenti e anche giustamente perché nella percezione della sicurezza e anche nel poter vivere in una città tranquillamente c'è un po' la quota della qualità della vita. La prima domanda è semplice, Prato è una città sicura oggi? Assolutamente no. Prato sta passando negli ultimi anni davvero un problema serio sul settore sicurezza. I pratesi non si sentono sicuri non solo a casa ma anche uscire di casa, non solo per andare in centro ma uscire anche nei propri quartieri. Noi dobbiamo impegnarci a ripristinare quel diritto alla sicurezza che a tanti pratesi ormai manca da anni, con tante soluzioni perché abbiamo visto cinque anni della giunta di sinistra non affrontare mai il tema sicurezza. Anzi ora che ci avviciniamo alle elezioni sentiamo parlare dalla sinistra che è una percezione il problema sicurezza invece è un dato di fatto perché io ogni giorno giro tante parti della città e incontro tantissime persone e proprio neanche a fare una media su dieci persone che incontro dieci mi parlano del problema sicurezza. Quindi andando al problema sicurezza andiamo un po' nel dettaglio abbiamo piazze di spaccio un po' in tutta la città in tutti i quartieri di Prato abbiamo parcheggiatori abusivi cioè il sindaco ha detto ha dichiarato pochi mesi fa che questo problema era stato risolto invece non è così. Ieri con una mia diretta in piazza del mercato quindi in un luogo centrale in Viale Galliei ho dimostrato come in tempo reale alle ore 11 otto parcheggiatori abusivi in un tratto neanche di 50 metri chiedevano soldi a tutte le persone che parcheggiavano la macchina. E ho visto delle situazioni anche abbastanza imbarazzanti di donne che non potevano neanche uscire di macchina sono dovuti intervenire io con una mamma con un bambino e questo non voglio toccare un argomento per far catturare l'attenzione. Io ho voluto in quel momento mettere i riflettori su un problema che non è stato risolto anzi ho dimostrato come la polizia municipale dall'altra parte della strada non intervenisse pur vedendo otto parcheggiatori abusivi sono dovuto andare io mi sono sentito dire ma noi siamo soltanto due chiamate rinforzi ho detto perché questo problema immediatamente bisogna risolverlo. Allora sfermi lì perché poi dopo tanto andiamo avanti volevo capire a taggetto insomma se condivide questa percezione sulla città di Prato se il giudizio più o meno è lo stesso e anche sul ruolo poi dopo su questo faccio rispondere anche per il giorno sul ruolo della polizia municipale perché su questo si ribatte molto insomma Salvini in piazza all'isolotto per lanciare i candidati al sindaco della Toscana ha detto chiaramente mandiamo la polizia municipale invece a fare il multe a cercare gli spacciatori sostanzialmente. È un ruolo della polizia municipale secondo te? Allora si tocca a un tema complesso quello della sicurezza è un tema che noi di Piuropa Prato abbiamo a cuore e sul quale ci stiamo impegnando molto e stiamo lavorando da settimane per dare delle risposte veri ai cittadini. Sono d'accordo con Claudio quando sostiene che la sicurezza sia una delle priorità della cittadinanza. Non sono d'accordo con Claudio quando diciamo suddivide il periodo storico cioè con la giunta a Biffoni sono peggiorate tutte le cose. Non credo sia corretto. Io grazie al lavoro che stiamo facendo stiamo osservando i dati. Ci sono delle statistiche ISTAT e sono dati ISTAT quindi non sono dati di Giovanni Targetti o di Claudio Belgiorno. Biffoni ha preso la città dopo cinque anni di giunta a Cendi quando abbiamo avuto lo sceriffo e i dati sono in calo, sono in netto calo. Che poi questo, ti sembra abbastanza? No, non mi sembra abbastanza. E difatti noi cerchiamo di mettere in campo quelle che pensiamo possano essere soluzioni. Credo che i parcheggiatori abusivi, ma i cittadini questo lo sanno, al di là di quello che può dire Belgiorno, i cittadini lo sanno benissimo che il tema dei parcheggiatori abusivi era un tema durante la giunta a Cendi di centro-destra, è un tema attualmente con la giunta di centro-sinistra, lo sarà anche in futuro. Il tema dello spaccio è un tema che è annoso nella città di Prato. Prato è una piazza di spaccio da 40 anni. Quindi sono temi che vanno affrontati, secondo me, anche nel rispetto dei cittadini, in maniera molto onesta e il più preparata possibile. Credo che la soluzione, io ho sentito l'intervento di Belgiorno e ha fatto l'altro giorno alle scuole, però sento spesso il centro-destra. Milone ripropone l'esercito per sventare i furti. Secondo Belgiorno ci vuole un, diciamo, più potere alla Polizia Municipale, più... La task force. Lui la chiama task force. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo la nostra idea, crediamo che si possa fare molto in termini sulla sicurezza dei cittadini, dobbiamo investire molto nella sicurezza, nella tecnologia. Oggi ci sono tecnologie molto moderne che possono garantire ai cittadini più sicurezza e soprattutto c'è un aspetto politico, noi siamo convinti che nella prossima giunta di Matteo Biffoni ci sia da individuare una figura, da reintrodurre un assessorato alla Polizia Municipale e al decoro urbano, perché noi colleghiamo molto le due cose, il decoro e sicurezza. Sì, prego, prego. Almeno il mio collega, per fortuna, ammette che ci sia questo problema in città, però la coalizione di cui fa parte non ne parla assolutamente in campagna elettorale. E poi, scusami Jonathan, è uscito la scorsa settimana, raddoppiati furti nelle abitazioni più il 30% solo dall'inizio anno. Sono dati allarmanti, qui non stiamo parlando di chiacchiere, da bar e tutto. Qui svaliggiano garage, abitazioni. Prato è la capitale del riciclaggio in Italia, ma come non possiamo parlare di sicurezza e non metterlo tutti come... Però per giorno il riciclaggio non lo può gestire la Polizia Municipale, siamo d'accordo con questo. Assolutamente, bisogna chiedere un'aiuto anche al Ministero, se siamo la capitale in Italia del riciclaggio e chiedere che venga fatta proprio una commissione a livello nazionale su questo. Abbiamo la comunità cinese, grande l'Italia, quindi non ce lo dimentiamo, però il riciclaggio non è solo della malavita cinese, si parla anche di quella italiana, assolutamente, quindi bisogna intervenire anche su questo. Voglio solo dire una cosa in merito a furtivizzazione. Nel 2014, nel 2013, l'ultimo anno di Giunta Cenni, di centro-destra, i furtivizzazioni furono 1.681. Dopo tre anni di Giunta Bifoni, perché poi da Tistat arrivò fino al 2017, sono stati 971. Poi bisognerebbe avere la proiezione di tutti i cinque anni, parlare di aumento del 30%, quando magari sono diminuiti del 100% in tre anni. I dati possono essere interpretati in maniera molto più corretta. Diciamo che, almeno ora, non so se effettivamente non ho il dato pratese, ma diciamo che a livello nazionale quello che è successo è che spesso si parla di percezione perché i reati in generale sono diminuiti, sono aumentati però in alcuni casi, ad esempio nel caso di Firenze, sono aumentati alcuni tipi di reato, come i furti in appartamento. Non so, lo dico per onestà, se è la stessa situazione a Prato, ma sono diminuiti i reati, quali gli omicidi, gli assassini, gli stupri, le cose così, e sono aumentati i reati, che sono però quelli che, tra l'altro, al cittadino, come dire, vengono maggiormente percepiti e quindi toccano di più, in qualche modo. È effettivamente così. C'è un tema però che diceva Targetti, parto da lui questa volta, che era di tenere insieme anche il discorso sicurezza con il discorso degrado o decoro urbano, diciamo così, perché ad esempio anche il discorso dei parcheggiatori abusivi è effettivamente qualcosa che valica il confine della sicurezza e arriva anche proprio sulla percezione che la gente ha del decoro, dell'estetica, anche se volete, di una città. Come si fa a tenere insieme, come si fa agire contemporaneamente, Targetti, anche su questo tema? Brevemente, non voglio dire assolutamente. Noi, il nostro programma si articola su dieci macrotemi, uno di questi è la sicurezza. Il centro-destra purtroppo ha il 95% del proprio spazio dedicato alla sicurezza, peraltro dando spesso delle soluzioni che sono prive di basi solide, e il 5% parla del resto. Per quanto ci riguarda, ad esempio, faccio un esempio banale, la stazione centrale si riporta, diciamo, i cittadini tranquilli a vivere la stazione centrale partendo dal togliere i 29 autobus parcheggiati davanti quando uno entra alla stazione. Quando uno arriva, e come prima cosa a Prato si trova 29 autobus parcheggiati nel deposito dell'azienda di autobus, di CAP, spesso accesi, viene accolto da una rube di smog, il parco, cioè il progetto deve essere sempre complessivo, non può essere quello delle forze dell'ordine l'unica leva su cui poter poggiare. In piazza della stazione c'è una postazione, un casottino, dove storicamente ci stavano le forze dell'ordine, ora da tempo non ci stanno più, si rimettono le forze dell'ordine, ma deve essere uno delle tante leve che muovi, perché poi c'è un aspetto commerciale legato ai fondi sfitti attorno all'area della stazione, c'è un aspetto legato al decoro, alla bellezza, alla cura che si ha del verde pubblico. Anche all'educazione, perché poi sono i cittadini prima a dover stare dentro i decori di una città, non si può sempre ricondurre tutto all'amministrazione. Così come la lotta ai parcheggiatori abusivi in piazza mercatale, a nostro avviso la facciamo ripensando piazza mercatale. Su piazza mercatale ci arriviamo, volevo capire da bel giorno, prima parlavi della tax force, quali sono le azioni in cui credo? Innanzitutto parliamo di una cosa, il governo centrale ha dato una legge ora alla polizia municipale, con il decreto Salvini, di combattere i parcheggiatori abusivi. Però questa legge a Prato, signori, non è applicata assolutamente, perché la legge prevede che il parcheggiatore abusivo che viene trovato sul fatto venga multato da 3 a 5 mila euro, ma se è recidivo c'è l'arresto. Ora la domanda è questa, ma la polizia municipale controlla queste persone? Assolutamente no, l'abbiamo dimostrato, perché se no sono tutti recidivi, verrebbero arrestati tutti. Quindi allora a Prato manca anche l'applicazione della legge, e questa è una grande gravità che i pratesi devono sapere. La legge c'è ma non viene fatta rispettare da chi? Dalle forze dell'ordine anche, è questo, dalla polizia municipale. Quindi vuol dire che il comando, la testa di tutto ciò, quindi il sindaco, che è anche l'assessore alla sicurezza, perché si è tenuto la delega per 5 anni, quindi ha fallito anche per questo, non ha voluto delegare a una persona che si occupasse di sicurezza, quindi sicuramente in una nuova giunta di centro-destra il ruolo dell'assessore alla sicurezza deve fare sicurezza. All'interno della polizia municipale creare un reparto proprio dedicato a questo, alla sicurezza nei quartieri, soprattutto la sera, perché le persone hanno bisogno di sentirsi, di vedere la sicurezza, non di leggerla in un post o sui giornali. C'è bisogno delle persone, secondo me l'esercito non serviva tanto. Quindi parliamoci chiaro, questo sono d'accordo assolutamente con te, però siccome il comune ha questa forza, ha comandato la polizia municipale, perché la questura, i carabinieri già fanno un lavoro eccezionale, però sono sotto numero, lo sappiamo. Anche lì speriamo davvero che da Roma ci sia l'alzamento di grado della questura, in modo che scatterebbero tanti vantaggi, però creare una costola all'interno della municipale che si occupi solo e soltanto di sicurezza, oltre agli altri servizi. Mi dite, ormai esauriamo questa prima parte, vi chiedo di andare veloci, poi nella seconda parleremo anche di altro, anche perché il titolo l'abbiamo ritrovato non solo sicurezza, insomma, se no è finché si parla sempre solo di quello, però ormai chiudiamo questa prima parte su questo tema, parto da Belgiorno che stavolta. Mi dite quali sono le aree principali, perché anche chi ci guarda da fuori magari non conosce Prato, dice sì, però Prato non sarà tutto uguale, non sarà tutto un problema di sicurezza, ci sono delle zone particolari, magari delle zone, mi viene da dire, anche dove c'è una convivenza difficile tra etnie diverse. Sicuramente. Il soccorso in primis è uno dei quartieri dove ci sono più etnie, quindi è anche più difficile, ci sono problemi anche di inquinamento, di spazzatura che viene abbandonata, Paperino, o se no comunque i classici quartieri della periferia, San Giusto, Iolo, che sono spesso visitati da ladri, quindi c'è questo problema. Poi il discorso dello spaccio, ho dimostrato anche lì con una diretta, che ormai coinvolge un po' tutti i quartieri di Prato, il Fulco in centro. In centro ci sono veramente delle zone, del centro storico buie, talmente buie, che il via vai di spaccio di droga ormai è in normalità. Io mi ricordo quello che ha lasciato in eredità il centro-destra l'ultima volta, mi ricordo un serraglio veramente che era terra di nessuno, e devo riconoscere, pur con tutte le critiche che avanziamo noi a biffoni, critiche costruttive, e che devono avere l'obiettivo di migliorare le azioni politiche anche nei prossimi anni, perché noi comunque non dobbiamo difendere una, non venendo da un'esperienza di amministrazione o di governo, in questi anni noi siamo liberi di poter dire cosa è andato e cosa non è andato, sempre nello spirito costruttivo. Io ricordo di un serraglio dove veramente ero off limits, e invece adesso vedo un serraglio dove si può tranquillamente passeggiare anche la sera tardi. Non è così. Sì, è stato fatto un playground, è stato rilanciato tutta la parte superiore del serraglio, e adesso non è, guarda, ci sono dei numeri che parlano chiaro, ci sono stati degli assistenti sociali, infatti si è vista l'assemblea con gli studenti, che l'hanno detto l'altro giorno proprio del serraglio. Ci sono stati dei numeri dell'ASL, una mappatura che era arrivata a contare quasi 300 persone, 300 tossiodipendenti, e tutti i giorni scendevano da Prato, e dopo un intervento, devo dire, fatto insieme alla regione, le forze dell'ordine, il comune, sono diminuiti a 50. Io da radicale, ho le mie idee su come ci si dovrebbe approcciare alle droghe, alle droghe leggere e quant'altro. Non credo che la repressione dura sia la strada giusta. Penso a esempi di nazioni all'estero, dove hanno liberalizzato, dove hanno introdotto la somministrazione medica, che hanno migliorato, sicuramente combatti lo spaccio, combatti il degrado. Io non credo che Prato sia Gotham City. Prato è una città che viene vissuta, il centro storico durante le ore serali è vissuto da tantissime persone, tant'è che ora non si parla più ormai della strada di Pistoia, ma si va del centro di Prato. Infatti questa amministrazione multa anche i locali, perché bisogna ricordare questo a casa, che questa amministrazione ha multato tanti locali, sia per il rumore che per i tavolini. Quindi da una parte si dice che abbiamo rilanciato il centro storico, dall'altra li andiamo a multare. Sì, perché se uno non rispetta le regole è giusto che incorrano infrazioni. Allora dovete chiarire le regole, perché tanti di loro, si parla anche di suolo a zero, che è stata una delle proposte di Matteo Biffoni nella scorsa campagna elettorale, però poi si va a multare questi locali. Il centro storico funziona? Quindi non parliamo di paragone con la sala, secondo me ancora siamo molto lontani tra la sala e Firenze. Ma la sala non è un luogo, siamo ancora molto lontani. Non è una giungla dove ognuno fa ciò che vuole, la sala Pistoia. È un luogo dove tutti rispettano le regole e dove c'è una convivenza tra chi ci abita e chi ci lavora. E questo deve essere Prato e questo è Prato. Tanto che i locali si sono consorziati, qui ancora no, per dire, per fare iniziative. Allora, vi fermo, perché poi ci sono altri temi. Mi piaceva piacere capire anche come si sta dal punto di vista del lavoro nero, che è un altro dei temi a Prato, su cui la Regione Toscana, insieme anche al Comune, ma poi sono stati messi in campo dei progetti. Volevo capire dal vostro punto di vista se hanno dato esito positivo oppure no, almeno per mappare le situazioni che riguardano i cosiddetti capannoni alveari e non solo, che sono una realtà di Prato e anche qui e non solo. Ne parliamo nella prossima parte. Nella seconda parte parleremo però anche di tanti altri temi. vorrei parlare un po' di ambiente, dell'area vasta, visto insomma quando si parla di Prato e di Firenze, ormai non si può che parlare di una città in continuità e di molti altri temi. Insomma, adesso non vi sto a riassumere, ma se vi interessa di Prato, se vi interessa quello che stiamo dicendo, restate con noi, giusto 5 minuti, poi torniamo in studio. Ben tornati in studio, e allora stiamo parlando di Prato, siamo con Claudio Bergiorno di Fratelli d'Italia e Jonathan Targetti di Più Europa, entrambi candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni del 26 maggio. Vorrei ripartire da Belgiorno, vi chiedo di andare rapidissimo, così parliamo di più temi possibile, per capire un po' se insomma questo grande processo di mappatura dei cosiddetti capannoni alveari, delle situazioni lavorative, soprattutto che riguardano i laboratori di etnia cinese, ma non solo, a Prato, messi in campo dalla Regione Toscana insieme al Comune e alle Forze dell'Ordine in questi anni ha dato i frutti, l'esito sperati, oppure no? Belgiorno e poi tardi. Sicuramente i controlli non bastano mai, anzi devono essere ancora ampliati, perché comunque crescano numerose ditte sul territorio fratese ogni giorno, tra l'altro ne aprono nuove aperture, però si ritorna lì, se abbiamo un problema di carenza di personale delle forze dell'Ordine, non può essere fatta quindi un controllo su tutto il territorio fratese e quindi tante situazioni scappano dal controllo. Bisogna anche dire che ora tanti cinesi non vivono più nel stesso luogo dove lavorano, ma hanno, anzi, investito nel comprare casa o nell'andare all'affitto. Infatti, un problema serio che vorrei dopo affrontare è l'allarme alloggi, l'allarme alloggi soprattutto per i fratesi che non trovano più delle case in affitto sul territorio. Questo è un tema interessante. E Targetti? Credo che sia stato fatto un grande lavoro coordinato dalla ASL, dalla regione, sul comune di Prato, sono state contrate tantissime aziende. Credo anche, mi fa piacere che Claudio abbia riconosciuto il fatto che comunque il tema comunità cinese rispetto a dieci anni fa o a cinque anni fa sia diverso adesso. Io conosco diversi amici che hanno, di proprietà cinese, in realtà è anche fuorviante chiamarli così, che hanno dipendenti italiani, dipendenti cinesi e loro ormai hanno una cittadinanza italiana, parlano pratese, il tessuto imprenditoriale della nostra città è un qualcosa di unico in Toscana e forse anche in Italia. Se pensiamo a Biella che è una città con un sacco di cartelli affittasi, invece Prato non si trova un capannone 8 mila aziende, 35 mila dipendenti nel settore ormai tessile moda nel mani fatturiero, sono numeri importanti. Altro tema, parto questa volta da Targetti, Piazza Mercatale. Piazza Mercatale è un tema che riguarda la nostra città ormai da decenni, mi fa piacere che in questa campagna entorale si sia in molti a parlarne, crediamo che sia opportuno ripensare una delle piazze più belle che abbiamo, una delle piazze più grandi d'Italia, che non può essere relegata a mero parcheggio di superficie, con tutti i problemi che ne derivano, ma ha bisogno di un grande ripensamento, che poi si lega a tutto il tema del rilancio del centro storico, la mobilità cittadina, di come dalle zone periferiche si arriva in centro storico e si va in centro storico, quindi è un tema molto complesso che riguarda tanti aspetti, noi crediamo che sia opportuno riprendere in mano quel famoso progetto del parcheggio sotterraneo, ovviamente è un progetto che può richiedere anche 10 anni di investimento, 5 anni di investimento, un periodo di medio e lungo, però dobbiamo anche raccontare, dobbiamo anche parlare in maniera onesta cittadini, le cose si cambiano, i grandi progetti hanno bisogno anche di molto tempo per vedere la luce perché poi devono essere dilazionati nel tempo e deve essere un investimento sostenibile. Chiarissimo, bel giorno. Allora, sicuramente Piazza Mercatale non può essere usata solo come un parcheggio, sono uno dei fondatori della Palla Grossa del Settembre Pratese che questa giunta ha tolto dalla sede storica di Piazza Mercatale, noi ci siamo già schierati per ripristinare il tutto in Piazza Mercatale perché quella piazza ha fatto vedere con il Settembre Pratese ha dimostrato i grandi numeri e che quel parcheggio alla fine poteva ospitare anche dei grandi eventi. Quindi, una piazza che bisogna trovare degli eventi importanti per sfruttarla anche durante l'anno, tutto l'anno, non solo a Settembre. Basta vedere che siamo in mezzo a due grandi realtà al Firenze Rock e al Lucas Summer Festival dove le loro piazze principali sono diventate un pollo di eventi incredibile con turisti da tutta Italia se non dall'Europa. Mi ricordo quando Spada che era presidente di ConfCommercio all'epoca fece la battaglia per portarla fuori la palla grossa quindi non capisco come faccia adesso Claudio a dire stiamo facendo la battaglia per riportarla in centro quando Spada in realtà quando era presidente di ConfCommercio ha fatto la battaglia opposta ovvero per portare fuori la palla grossa dal centro. Certo sicuramente anche perché ognuno all'interno dei propri partiti porta avanti un programma di partito tra l'altro ti devo dire che so che è condiviso anche dagli altri partiti del centro-destra di riportare anche perché siamo stati noi a tirare fuori a ripristinare questa tradizione quindi siamo noi anche quelli e la riporteremo lì in piazza mercatale. Mi dici per il giorno quello di cui accennava prima il tema degli attori. Allora allarme all'oggi questa è una cosa molto importante che è venuta fuori con i tanti incontri che ho fatto con le persone in città in poche parole a Prato il mercato degli alloggi è saturo nel senso che non c'è più appartamenti in affitto a buon prezzo perché? Perché in città abbiamo circa 110 etnie e quindi molte delle quali tra la maggioranza cinese che ora si sta trasferendo dal luogo dove lavorava e viveva ora agli appartamenti offre almeno un 20% in più ai prezzi agli affittuari quindi al prezzo standard diciamo che si trova sul mercato quindi cosa è successo? Che tante case degli italiani vengono dati proprio ai cinesi e quindi rimangano fuori tutti quei pratesi che ora magari creano una nuova famiglia vogliono andare a vivere da soli non riescono più a trovare un alloggio questo è diventato una cosa veramente un problema importante e sociale che riguarda tutta la nostra comunità a cui dobbiamo sicuramente bisognerà investire anche nelle delizie popolari in nuovi alloggi popolari perché non è che noi possiamo dire ai proprietari degli appartamenti dateli agli italiani o abbassati i prezzi assolutamente mercato è mercato allora il comune dovrà fare nuovi alloggi se c'è questa grande domanda e non ci sono appartamenti in affitto per i pratesi ci sono 9000 appartamenti sfitti a Prato e quindi io credo che non mi risulta perché ti invito a parlare con le persone a fare un post su Facebook ma non è il post su Facebook o il parlare con la gente al bar che poi non vuol dire niente perché non ti dà io mi rifaccio sempre a numeri il mercato immobiliare parla chiaro si parla di 9000 appartamenti che sono invenduti o sfitti vuoti quindi non abitati che magari c'è chi vuole solo vendere e non vuole affittare però comunque non c'è un'emergenza all'oggi io credo che però che ci sia una necessità di mettere mano a questo sono d'accordo con Claudio però il mio punto di vista non è perché è una cosa che affronta adesso e che ho letto anche in questi anni io sono più d'accordo se il comune anziché costruire nuove case quindi nuovo cemento ulteriore edificazione che io sono più per sono più per volume zero cemento zero sono più per un progetto mirato ad andare a occupare quei tanti appartamenti sfitti e magari l'acquisto di immobile e poi rimetterli sul mercato a prezzo al mirato oppure esatto può essere una delle soluzioni allora un altro paio di domande la prima riguarda faccia a Targetti proprio perché ha citato questo tema il tema dell'ambiente del verde pubblico l'ambiente poi riguarda tanto perché riguarda una parte ad esempio la gestione dei rifiuti capitolo molto grande che riguarda anche Prato visto che alcune questioni sono state sulle parti per quanto riguarda la raccolta differenziata dall'altra il verde pubblico è l'altro grande tema io allora credo che la nostra città sia una delle città più all'avanguardia su quello che riguarda il porta a porta siamo al 100% di porta a porta quando Firenze è al 72 la proposta di spada di andare di tornare a un vecchio sistema dei suoi cassonetti mi ha lasciato e ha lasciato un po' perplessi in tanti però forse sono convinto che non abbia avuto magari l'occasione di approfondirlo di spiegarla bene perché noi vogliamo andare verso una tariffa puntuale ovvero premiare il cittadino virtuoso che produce meno rifiuti e la strada da intraprendere è quella proprio di passare da porta a porta quindi non potresti parlare di tariffa puntuale se tu non avessi già un 100% di porta a porta che poi la città abbia delle zone critiche è ok tutte le città hanno delle zone più critiche però non si torna indietro cioè bisogna guardare avanti e non tornare indietro per quanto riguarda l'ambiente noi abbiamo costruito però un programma che utilizza l'ambiente come bussola per tutte le scelte se penso ad esempio a una delle cose che vorremmo affrontare da altre città quella che hanno fatto a Cesena ovvero dare gli incentivi per chi sceglie di muoversi in bicicletta e non in macchina dobbiamo svuotare dobbiamo riempire le nostre state di bicicletta e svuotare di auto perché l'inquinamento è uno dei temi che è sull'agenda della politica europea internazionale mondi globale e io penso a Cesena in 250 cittadini hanno adottato questo nuovo modo di viaggiare e vengono ricompensati dal comune si arriva addirittura a restituirli 60 euro al mese con un progetto ad esempio su utilizzo di biciclette però poi qui entra in ballo tutto quello che è la mobilità pubblica quindi il sistema di trasporti pubblici dobbiamo iniziare a considerare e qui anticipo il tema dell'area vasta ormai Prato-Pistoia Pistoia Prato-Firenze di Prato-Pistoia deve diventare e deve essere considerata al pari di una linea metropolitana Bel giorno Allora trasporti pubblici una battaglia che ho portato avanti per gli studenti devo dire che a Prato c'è un grande problema proprio sui trasporti pubblici naturalmente questa è stata una battaglia negli anni passati della sinistra qui la città alle 8 la sera si spenge non c'è un autobus per spostarsi in centro o in periferia e questa è una cosa assurda non abbiamo la metropolitana non abbiamo la tramvia quindi almeno il trasporto pubblico miglioriamolo o diamo la possibilità del Pratese di averlo anche la sera non dico gratis ma a dei prezzi agevolati perché gli studenti che ogni anno si vedano aumentare il prezzo del biglietto si vedano calare dall'altra parte la qualità del servizio questi ragazzi che montano su autobus strapieni vengano multati perché non riescono ad arrivare ad obliterare l'abbonamento avete capito bene l'abbonamento perché un abbonamento che viene pagato anticipatamente tutto addirittura va obliterato ogni volta che si monta sul bus quindi i ragazzi non riescano al rivale a obliterarlo arrivano i controllori e vengono multati quindi il trasporto pubblico va migliorato soprattutto quello per le scuole e la sera bisogna assolutamente collegare la città perché alle 8 non è che non posso più muovermi se non ho la macchina quindi anche da quella parte bisogna trovare una soluzione se non abbiamo una tramvia una metropolitana e tra l'altro sul discorso della metropolitana di superficie come qualcuno la chiama si innesta diciamo il discorso della TAV fiorentina perché lì se si sbloccasse questa famosa stazione Foster e quindi il passante all'alta velocità probabilmente si libererebbe le binarie superficie che proprio nell'asse Pistole a Firenze e quindi insieme a Prato potrebbero dar vita a quella osiddetta metropolitana di superficie come esistono in Francia in Germania in tanti altri luoghi parto da Belgiorno che stavolta velocissimi però il tema del rapporto Prato-Firenze più inteso come area vasta cioè si può immaginare che un giorno le due città collaborino se non altro a un piano urbanistico soprattutto in quelle zone di Cerniera che sono insomma appunto zone periferie e zone di Cerniera però non sono ovviamente zone di serie B dall'altra parte il cercare di portare avanti anche politiche comuni in modo che possono riguardare i servizi al cittadino da una parte e appunto magari lo sviluppo della città a futuro sicuramente sarebbe un sogno questo di una vera chiudere il rapporto antagonistico tra Firenze e Prato ogni città sicuramente ha le sue priorità bene Firenze ha anche un flusso di turismo incredibile che Prato forse non riesce neanche a catturare il 2% di quel turismo lì ci mancano strutture come un palasport all'avanguardia per ospitare eventi sportivi nazionali e anche eventi come concerti quindi tanti pratesi sono costretti ad andare a Firenze al Mandela all'Obiol o se no a Montecatini quindi mancano anche delle strutture importanti in città quindi sfruttare già quelle le sfruttiamo bisognerebbe crearle da noi in città prima di andare a Firenze quindi una nostra proposta è quella proprio di un palasport degno di chiamarsi palasport e non come quello che a Maliseti è una palestra un po' più grande dopodiché anche un bel polo fieristico perché ci sono delle aree importanti comunali a cui bisogna dare un giorno una risposta come l'ex banci quindi lì bisogna studiare quello che potrebbe essere il futuro di un'area come quella in pieno degrado quindi insomma per il rapporto Firenze-Prado bisogna far diventare più forte Prado sicuramente essere inglobati non è mai bello vorrei solo far notare che l'ex banci non è comunale ma è di Estra che è una società che ha diverse partecipazioni quindi non è del comune anche se credo che il tema dell'ex banci sono d'accordo con Claudio sia un tema da riaffrontare per rispondere alla tua domanda credo che il tema Prado-Firenze sia un tema che anche qui arriva da quantomeno da 500 anni da quando ci avete svenduto ai Lanzi Chenecchi e al Sacco di Prado oggi c'è una pista cilabile che dovrebbe unire Firenze-Prado io credo che lo sviluppo debba avvenire su scala quantomeno Prado-Firenze-Pistola le province proprio io parlo perché a tutti gli effetti ormai è una cosa unica non c'è discontinuità urbanistica molte delle partecipate sono in condivisione molte delle rete della rete infrastrutturale è in condivisione e io mi auguro che il prossimo il prossimo quinquennio sia quello in cui si provi a diciamo creare un tavolo comune dove i tre soggetti le tre città inizino a pensare a uno sviluppo industriale comune perché poi alla fine se non parliamo del tema lavoro se non parliamo possiamo parlare di qualsiasi cosa ma se non non siamo in grado di attrarre investimenti non attrare le grandi aziende che sono in grado di assumere e di creare valore e lo fai solamente solamente se la programmazione è di era vasta ci mettiamo in mezzo anche l'idea che insomma l'unico grande museo di arte contemporanea dell'asse Firenze trattato di Pistoria possa diventare il pece perché quello oggi purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne ma è uno dei temi che mi sta più a cuore perché è davvero un museo molto bello e dovrebbe ambire a qualcosa di più secondo me rispetto ai confini che oggi ha ma lo è già sono già vasti infatti però forse nella promozione bisognerebbe fare qualcosa in più l'ultima domanda che voglio farvi rubo veramente 30 secondi di cosa vorreste occuparvi se domani sarete eletti sarete in consiglio il primo fascicolo che vorreste avere sulla vostra scrivania parto da Belgiorn e poi Targetti sicuramente il settore sport il settore turismo eventi perché è una materia che ho sempre dato molta attenzione e quindi conosco bene quindi sicuramente sarebbero due materie quella del turismo e dello sport a cui dedicherei molto tempo già ho visitato tante realtà sportive perché Prato è ricca di tante realtà sportive però bisogna dire che dall'altra parte c'è il problema strutture mancano gli spazi quindi bisogna investire anche nello sport abbiamo uno stadio che è stato tutto ristrutturato ma è fermo lì chiuso da un anno perché c'è stato un bisticcio tra il nostro sindaco e il presidente del Prato che per quattro anni vorrei ricordare a casa sono andati a braccetto insieme foto e quant'altro però poi l'amore si è rotto e ora abbiamo uno stadio che non viene utilizzato da nessuno Targetti beh innanzitutto tocca fondi vattene questa è una cosa che unisce un po' gran parte dei fratesi e purtroppo siamo ostaggio di questa proprietà ormai da tanti anni e io sono dalla parte innanzitutto dei ragazzi che da tanti anni seguono il calcio io ho avuto la fortuna di giocare nelle giovanili anche della Ciprato e quindi la conosco da dentro e la mia solidarietà va a tutte le persone che sono state private di un amore come quello del calcio che dovrebbe unire tutta la città quindi anche per lei è quello il primo punto no 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 allora semplicemente tre parole noi fin dall'inizio quando siamo iniziati a ritrovare abbiamo fondato Piuropa Prato il nostro obiettivo è portare delle persone nelle istituzioni che si occupino di migliorare la qualità della vita dei cittadini punto a di là poi dopo i cinque anni che ci aspetteranno ci sarà un momento in cui si vada di sport il momento in cui si vada di cultura il momento di sviluppo economico però l'obiettivo di tutti che tutti quelli che fanno politica in città dovrebbe essere migliorare la qualità della vita dei propri cittadini che immagino per voi siano quelle che voi candidate nelle vostre liste assolutamente grazie mille a Claudio per il giorno grazie mille a Jonathan Targetti per essere stati con noi grazie a tutti a voi seguito da casa Telegram termina qui e noi ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti